Un annullo filatelico speciale e un percorso tematico per ricordare la tragedia che sconvolse Firenze, l'alluvione del 4 novembre del 66. È ciò che hanno organizzato il Comitato Firenze 2016 e l'Opera di Santa Croce in collaborazione con il Centro Italiano per la Filatelia Tematica. Una mostra collocata proprio in uno dei luoghi simbolo dell'alluvione del 66 che si manifesta come Storytelling Antelitteram, una sorta di Twitter del passato. Santa Croce è testimone ed è il soggetto di 700 anni di rapporto con l'alluvione, con 56 gravi alluvioni e centinaia di alte alluvioni. Siamo nel punto più basso di Firenze, quindi il luogo veramente che è il fondo dell'oceano che ha vissuto Firenze in varie occasioni. Il Franco Bolleo è una bella occasione, il vecchio tweet, per comunicare con un flash quelli che sono riassunti di storia. Nel chiostrino antico del complesso monumentale di Santa Croce, fino al 31 gennaio, si potranno ammirare Franco Bolli, cartoline e testimonianze che raccontano l'alluvione e le alluvioni, senza dimenticare il concetto di sostenibilità. Il Franco Bolleo in realtà è più contemporaneo di quanto non sembri di primo acchito. Le monete oggi sono le monete europee. L'euro è un'omologazione, i raccordi stradali sono legati alle normative europee, i grandi negozi sono quelli che oggi identificano le città ma con una similitudine tra paese e paese. Il Franco Bolleo rimane un simbolo di identità nazionale molto forte perché ogni nazione mette il suo e celebra le sue ricorrenze che non sono quelle di paesi limitrofi. Nello stesso luogo ci sarà anche una postazione temporanea per ottenere l'annullo. La vignetta del bollo filatelico raffigura la basilica e il Cristo crocifisso di Cimabuo in acqua. Siamo molto contenti che un Franco Bolleo oggi porti l'annullo di un artista che ha lavorato in Santa Croce e che invece il Franco Bolleo è stato disegnato dal De Chirico in piazza di Santa Croce. La prima piazza metafisica di De Chirico l'ha fatta guardando Santa Croce. Grazie. Grazie.